Sarà il Festival della Svolta, si svolgerà nell'ultimo fine settimana del mese di giugno e punterà ad avere un pubblico formato almeno per la metà da turisti. Hanno grandi aspettative gli organizzatori di passaggi Festival della Saggistica che per la quarta edizione hanno scelto la felicità possibile come tema da affrontare sotto diversi punti di vista, quello della politica, della religione, dell'economia ma anche della cucina, della storia e delle scienze. In un'Europa in crisi, in un'Europa dove la nostra sicurezza quotidiana viene messa in discussione, i rapporti con gli altri popoli, la questione dei migranti, parlare di felicità può sembrare strano, provocatorio. Ecco, noi lo facciamo nella convinzione che ci sia anche quella felicità possibile, non la grande utopia o il grande sogno, ma quella che possiamo vivere quotidianamente con le nostre forze e la nostra responsabilità. Avete detto che volete sicuramente cambiare la dimensione organizzativa, in che senso? Innanzitutto il programma avrà soltanto grandi nomi, come è stato dal 2013 al 2015, però vorremmo cambiare la dimensione organizzativa perché stiamo stretti nel Chiostro delle Benedettine, vorremmo capire se ci sono più spazi, quindi dividere il Festival in più punti, in più sedi, con tanti eventi in più. Stiamo programmando addirittura in quattro giorni, dal 23 al 26 giugno, un'ottantina di eventi. La macchina organizzativa della manifestazione si è già messa in moto, si stanno raccogliendo le proposte delle case editrici e si pensa alle possibili iniziative dedicate ai bambini e agli adolescenti. Per la prossima edizione, inoltre, Passaggi Festival si vuole gemellare con il più grande evento culturale d'Italia, sia in termini di pubblico che di fatturato, ma per ora Presidente e Direttore non svelano nulla di più. Il Festival piace a dei fans che già ci chiedono come sarà la quarta edizione e noi vogliamo diventare un festival grande, ovvero un festival a livello nazionale perché i contenuti e le personalità che partecipano non hanno nulla da invidiare il festival di Mantova, di Trento ed altri, quindi la quarta edizione sarà l'edizione della svolta dove noi vorremmo portare migliaia di persone da fuori Fano.